Ciao carissimi, sul fronte ucraino non ci sono grandissime novità, il fronte continua a essere abbastanza fermo, nonostante l'esercito ucraino ha rafforzato il suo gruppo tattico nella direzione Kupiansk-Limansk cercando di bloccare quella che è stata la controffensiva russa, voi sapete che i russi sono andati in controffensiva, hanno conquistato i punti strategici importanti, gli ucraini hanno rafforzato il loro gruppo tattico per cercare di spostare i russi da questi punti tattici, però non sono riusciti, quindi la zona grigia si è spostata in avanti verso il territorio ucraino, ovviamente a sfavore dell'esercito di Kiev. Anche nella direzione di Artyomovsk, ovvero di Bakhmut, come lo chiamano in Ucraina e anche qua in Occidente, ci sono le battaglie aspre per le alture di Klishevka, l'esercito ucraino cerca in tutti i modi di attaccare in quelle direzioni, di conquistare queste alture, e di spostare l'esercito russo, l'esercito russo non si muove, in alcune posizioni i russi sono riusciti a controttoccare e conquistare le posizioni degli ucraini, nelle altre zone ci sono le battaglie di posizioni, quindi lì la situazione è abbastanza in stallo, nonostante quello che ha dichiarato ieri il rappresentante dell'esercito ucraino che si trova in quella zona a comandare le operazioni, dicendo che l'esercito russo ha preso in un semicerchio, un quadrocerchio, insomma stanno cercando di anche creare una nuova formula linguistica per trasformare il niente che l'Ucraina ha riuscito a conquistare in quelle zone, in grande conquiste, cioè loro in realtà sono rimasti sulle posizioni nei quali si trovavano, non hanno fatto nessun movimento, però i loro militari, i loro generali, anziché applicarsi nella strategia, si applicano nelle ricerche linguistiche per cercare di dare una nuova svolta a quel niente che loro hanno ottenuto da queste operazioni, ovviamente sacrificando tantissimi militari, perché il problema è che muoiono ogni giorno tantissimi militari ucraini, stessi militari ucraini chiamano questa tattica l'assalto della carne, cioè loro capiscono che sono usati come carne da cannone. Ci sono i problemi con i droni switchblade che l'esercito ucraino riceve dall'occidente e che per un periodo utilizzava contro l'esercito russo, sono piccoli droni abbastanza utili nelle battaglie di trincee, in prime linee. Adesso questi droni russi hanno imparato di abbatterli utilizzando dei sistemi, dei particolari armi che servono per disturbare questi impulsi elettronici di questi droni e questi droni in pratica cadono in grande quantità. Quindi i russi abbattono questi droni e poi li usano anche contro gli ucraini, questa cosa non piace agli ucraini ma soprattutto non piace alla Nato e di recente in uno dei siti statunitensi, degli osservatori statunitensi che parlano di questa guerra hanno parlato di questa guerra dei droni spiegando che in realtà in questa fase di guerra attualmente la Nato ha perso totalmente la battaglia dei droni. I russi prevalgono gli ucraini e la Nato nell'utilizzo dei droni quindi la Nato non ha più quella grande disponibilità dei droni che forniva prima all'esercito ucraino ma soprattutto non riesce a difendere i droni che ha fornito all'Ucraina e che l'Ucraina usa. Per questo motivo tra l'altro, e lo afferma ormai il Pentagono, il più importante bersaglio dei militari ucraini attualmente nell'esercito russo non sono i militari, non sono gli aerei, non sono gli elicotteri, non sono carri armati ma i sistemi che si chiamano REB, sistemi di guerra elettronica, sono i complessi che creano i disturbi per vari oggetti elettronici che vengono usati dagli ucraini. I russi a quanto pare sono riusciti a costruire un enorme scudo con questi sistemi REB e questo scudo di guerra elettronica impedisce ai sistemi della NATO soprattutto sistemi che utilizzano connessioni con satelliti, connessioni con vari sistemi come GPS, connessioni anche con operatori, tutti quelli che utilizzano segnali elettronici loro vengono disturbati e quindi i russi riescono a annullare l'utilizzo delle bombe plananti guidati, riescono a azzerrare l'utilizzo dei missili come IMARS e altri tipi di missili e ovviamente anche l'utilizzo dei droni. Questa è una tragedia per la NATO, in effetti Pentagono dice che è necessario innanzitutto distruggere questi sistemi REB perché loro sono il primo obiettivo dell'esercito ucraino, quindi devono concentrarsi su questo. Ovviamente è molto difficile farlo perché questi sistemi sono protetti da antiaerea e alla fine i russi riescono sempre con grande capacità di disturbare i sistemi elettronici della NATO. Nella direzione di Zaporozhia i militari ucraini attaccano nella zona di Rabotia, nel Belagorovka, però senza risultato. Lì ci sono le battaglie di posizioni, i russi hanno conquistato le posizioni favorevoli, non si muovono da lì e l'esercito ucraino, anche se è stato rafforzato, anche con dei mezzi, non riesce a sfondare. Loro mandano i loro militari contro le posizioni russe e la gente muore, la gente rimane ferita, parecchi militari ucraini si arrendono ai russi. Questa è la triste realtà dell'esercito ucraino. E capo della CIA, altro giorno, William Burns, ha detto che per vincere nella guerra, per la vittoria ucraina, ci sono due fattori principali, qua viene da ridere cari amici, perché due fattori principali per la vittoria ucraina che ha accettato capo della CIA sono la morale bassa dell'esercito russo e il comando poco capace sempre dell'esercito russo. Quindi, secondo il capo della CIA, per vincere questa guerra gli ucraini devono in qualche maniera sperare che le truppe russe si demoralizzano e che il comando russo diventa peggiore. È veramente una barzelletta. Ovviamente l'esercito russo rappresenta tutt'altro che soldati demoralizzati e a quanto pare non sono per niente male comandati, continuano a fare il loro lavoro morale abbastanza alta e i comandanti sono abbastanza capaci. Quindi, in grande linea, il capo della CIA con questa affermazione ha fatto capire a tutto il mondo, ma soprattutto agli ucraini, che la loro vittoria possono scordare. Più della metà del complesso tecnico-scientifico statunitense sono i russi e i cinesi. Questo hanno dichiarato recentemente le statistiche di uno dei giornali statunitensi che si occupa di questa tematica. In questo giornale, uno dei specialisti di Pentagono che commentava appunto questa notizia spiegava che sì, in effetti molti cinesi ormai lavorano nell'ambito della tecnologia statunitense perché loro sono proprio portati. A loro piace la matematica, piace la fisica, a loro piacciono le scienze esatte, a loro piace il calcolo e ci sono molti segreti, molti progetti segreti del paese che sono in mano a questa gente. E per questo motivo i servizi segreti statunitensi, soprattutto il Pentagono, temono che molti segreti, le tecnologie in fase di sviluppo statunitensi, sono già fuggiti appunto in Cina e in Russia. e questo specialista, tra l'altro, come esempio mette in campo la storia dei radar che fanno scannerizzazione della superficie acquatica. Lui dice che queste erano tecnologie statunitensi sviluppate dalle squadre composte dai scienziati cinesi e adesso c'è la Russia che in grande quantità produce questi radar con i quali difende proprio i navi e con i quali probabilmente adesso difenderà anche il ponte di Crimea e lui dice noi sappiamo già che i russi non è che hanno avuto accesso a queste tecnologie e la stanno studiando. Lui ha detto i russi stanno già producendo in quantità industriale questi radar cioè questi radar sono già stati prodotti in serie limitata per poter essere sperimentati sono stati sperimentati sono stati riportate le modifiche e adesso loro producono ormai in serie i radar pronti ad uso nelle situazioni operative questo è veramente molto triste questo dimostra che Stati Uniti d'America è un paese fallito soprattutto dal punto di vista del mantenimento dei segreti cioè loro democraticamente ci sono aperti a tutto il mondo in senso che era comodo a lui a loro ovvero loro hanno fatto avvenire tutte le persone da diversi paesi senza calcolare il fatto che queste persone di diversi paesi lavorando lì negli Stati Uniti d'America possono mantenere contatti con il loro paese e mandare tutte le tecnologie nelle proprie patrie e questo è un grande problema e si parla molto anche negli Stati Uniti d'America dei campi minati russi sui quali saltano i carri armati e altri mezzi della Nato nessuno sa cosa fare e come lavorare contro questi campi minati tutti i sistemi che Stati Uniti d'America hanno mandato agli ucraini per sminamento per pulizia di questi campi sono falliti non riescono a aprire delle brecce importanti per poter permettere all'esercito ucraino di entrare nei varchi campi minati russi per qualche strano motivo sono impossibili da sconfiggere da pulire da distruggere e ci sono tantissimi video dei militari ucraini che saltano per aria su questi campi io non posso pubblicare questi video qua ce l'ho sui miei canali sul mio canale Telegram io vi invito di iscrivervi al mio canale Telegram lì troverete tutti questi video comunque le mine russe per gli americani adesso rappresentano un grande problema tutti grattano la capoccia cosa fare intanto russi continuano a aumentare i loro campi perché ci sono i servizi di ingegneria militare e gli artificieri che come raccontano anche i militari di Pentagono ogni notte i russi fanno le operazioni in prima linea continuano a minare a aumentare la potenzialità dei loro campi minati una cosa allucinante per americani non sanno cosa fare non hanno mai visto una guerra del genere Germania nel frattempo ha dichiarato di mandare in Ucraina i carri armati Leopard 1 e già il mondo ride su questa cosa il mondo soprattutto militare gli esperti militari Stati Uniti d'America insomma ci sono anche le caricature riguardo a queste cose loro dicono prima hanno mandato i carri nuovi che sono stati bruciati adesso mandano quelle antichi il problema principale del carro armato Leopard 1 è che il suo cannone tira con le munizioni che non sono compatibili con altre munizioni in circolazione nell'esercito ucraino quindi per questo carro armato devono essere forniti munizioni a parte la Germania ha detto ovviamente che fornirà queste munizioni però ovviamente non sono tanti sono pochi sono munizioni che non possono essere usati ampiamente perché devono essere sicuramente usati con cura e criterio ed è chiaro già che l'esercito ucraino non potrà usare questo carro armato in modo diciamo libero e ampio sul campo di battaglia per questo motivo molti esperti soprattutto statunitensi parlano del fatto che questo carro armato verrà usato probabilmente come un carro di sostegno di ricupero dei militari e di carri colpiti dalla prima linea quindi una specie di mezzo di trasporto di sostegno e anche come un mezzo di copertura di fanteria di ritiro di trasporto di fanteria comunque faranno di tutto per evitare di portare questi carri armati nei gruppi tattici nei gruppi d'assalto perché lì probabilmente avrà fatica di partecipare alle battaglie proprio perché è vecchio perché non è abbastanza fornito con le munizioni come agli ucraini avrebbero comodo sarebbero comodo e gli americani nell'esercito statunitense stanno imparando a fare le trincee scavate a mano ci sono delle foto che fanno molto ridere di questi militari americani che guardano queste trincee come qualcosa che non hanno mai visto e probabilmente non le hanno mai visti perché ormai per gli americani da tantissimi da dicenni fare la guerra significa un'altra cosa qua improvvisamente in Ucraina hanno scoperto che esistono trincee e hanno scoperto con orrore che nell'esercito statunitense hanno dimenticato come si scavano le trincee loro sono abituati ormai a fare la guerra in modo diverso ovviamente qua si tratta di una guerra vera non di tutte le operazioni terroristiche che hanno fatto in giro per il mondo massacrando la gente innocente qua c'è un esercito che fa un mazzo così sul campo di battaglia e questi si domandano ma scusa ma noi non sappiamo neanche scavare le trincee quindi dobbiamo insegnare ai nostri militari come si fa e quindi ci sono queste foto che fanno ridere di militari statunitensi che con le pale scavano le trincee e le insegnano come devono essere le trincee quindi loro tornano a studiare quelli che sono le basi della strategia della guerra della trincea ancora ricordando le esperienze dei veterani di prima guerra mondiale e questa è ovviamente una cosa che dal punto di vista di valutazione militare può far ridere dall'altro dal punto di vista della valutazione delle condizioni di un esercito spaventoso che è un esercito statunitense che in tutto il mondo faceva gradasso adesso si mostra per quello che è militari che fanno di tutto si drogano violentano le donne fanno incidenti con l'auto mentre si trovano in altri paesi volano con loro aerei ammazzano i civili che vanno a sciare come è successo in Italia insomma questo schifoso esercito fa di tutto tranne quello che dovrebbe far sapere un esercito cioè sta zitti e con le palle scavare le trincee questi non sono capaci di farlo loro sono tutto tossicodipendenti trafficanti di droga violentatori delle donne terroristi tutto quello che volete l'esercito statunitense tranne che soldati che sanno scavare le trincee adesso torno a scavare le trincee perché hanno capito che nella futura probabile guerra loro perderanno perché ci sono militari ci sono ancora eserciti che sono in grado di fare militari e per questo motivo adesso soldati americani con le palle imparano a fare le trincee e vediamo quanto durerà e come riusciranno a imparare questo duro mestiere il pentagono ha pubblicato i dati secondo le quali una parte delle munizioni che sono armi e munizioni che sono state fornite all'ucraina sono finiti sul mercato nero è uno scandalo perché ormai anche Stati Uniti d'America cioè il pentagono ufficialmente ha ammesso il fatto che gli ucraini sono corrotti che gli ucraini rubano le armi ucraini vendono le armi ai criminali ai terroristi sul mercato nero tutto quello che io dicevo da un anno delle armi statunitensi che sono apparsi nelle repubbliche africane l'organizzazione terroristica internazionale Boko Haram in Nigeria che è stata armata anche con missile anticaro con i quali si può abbattere anche aereo nella fase di decodo insomma tutte quelle cose che io vi raccontavo adesso il pentagono le ammette ufficialmente che sì in effetti armamenti che americani hanno fornito all'ucraina sono scomparsi e sono riapparsi in diverse parti del mondo nelle mani dei terroristi dei criminali dei trafficanti e così via quindi questo ovviamente fa capire il livello della serietà tra virgolette del regime di Kiev che qualsiasi cosa fa sempre fa attraverso la corruzione attraverso l'idea di rubare di approfittare e anche quando si tratta di difendere il proprio paese ovviamente questa è una una dichiarazione un po' forte perché è chiaro che Kiev il regime di Zelensky si occupa di altre cose assolutamente non di difendere il proprio paese loro svendono il proprio paese agli oligarchi loro condannano il popolo ucraino alla morte al massacro perché per loro gli ucraini sono un materiale da utilizzo e anche la fornitura delle armi dai americani loro vedono come un modo di guadagnare e l'aviazione russa continua a colpire gli obiettivi di infrastruttura critica e anche infrastrutture portuali in Odessa ormai questa cosa dura da giorni da quando hanno fatto esplodere il ponte di Crimea i russi non hanno smesso di bombardare l'Odessa Nikolaev e le zone circostanti saltano per aria soprattutto gli obiettivi militari i magazzini militari con le armi e con munizioni e anche depositi di grano e anche i luoghi dove ci sono i mezzi di trasporto sia per le armi armamenti snodi ferroviari ma anche per trasporto di grano quindi in questo modo la Russia sta dimostrando la propria fermezza sia sulla questione di blocco navale loro dicono in questo modo alla comunità europea basta noi questa storia con grano non ce la beviamo più noi distruggeremo tutte le strutture che servono per trasporto grano cioè non ce la farete a trasportare grano in nessun modo e poi dall'altro canto loro dimostrano la loro volontà finalmente di colpire i snodi ferroviari e i punti di trasporto delle armi e delle munizioni prima lo facevano in maniera più illimitata adesso lo fanno più ampiamente la Francia intanto ha dichiarato una cosa molto interessante perché uno dei rappresentanti francesi ha incolpato Cina di fornire alla Russia non solo le armi cioè lui ha detto il problema della Cina è che non fornisce alla Russia semplicemente le armi i cinesi hanno dato alla Russia gli impianti industriali i cinesi hanno aiutato e continuano ad aiutare alla Russia di creare impianti industriali per la produzione delle armi per la produzione delle armi e munizioni in serie quindi i francesi dicono che la Cina aiuta la Russia e come aiuta alla grande e ovviamente per i francesi questa cosa non va bene perché i francesi sapete loro sono occidentali loro comunque sono colonialisti hanno derubato e distrutto massacrato l'Africa e ovviamente adesso la presenza in Africa di altri paesi come Cina e la Russia che hanno diversa propulsione storica politica che non usano colonialismo ma collaborano con i governi locali che rispettano la popolazione locale ovviamente tutto questo ai francesi non piace perché i francesi sono abituati di fare i padroni ma tempo passato padroni non si può più fare e intanto Putin ha dichiarato che Polonia pianifica di occupare l'Ucraina occidentale ovviamente questa dichiarazione è molto forte basata sul fatto che i polacchi hanno già dichiarato che sono pronti a portare i loro militari in Ucraina si tratterà di un gruppo tattico misto cosiddetto composto in gran parte dei polacchi una parte saranno rappresentanti militari dei paesi baltici una parte ovviamente minima parte saranno militari ucraini questo gruppo tattico loro pensano di posizionare nell'Ucraina occidentale ovviamente questa cosa sarà vista dai russi come una situazione molto grave perché vuol dire che i rappresentanti dei paesi nato stanno entrando direttamente in guerra a mio avviso i russi inizieranno a bombardare questi luoghi comunque l'intenzione della Polonia è quella di staccare i pizzettini quindi tutto parla del progetto del vecchio progetto del quale io parlavo ancora nel 2019 quando spiegavo che probabilmente l'Ucraina verrà divisa in diversi parti una parte gran parte dell'occidente si prenderà la Polonia una parte una parte si prenderà la Romania rimane qualcosa nel centro e poi tutto l'est compreso il Mar Nero Odessa Nikolaev e tutto il resto si prenderà la Russia molto probabilmente stiamo andando adesso in questa situazione e le prossime mosse prossimi attritti a livello geopolitico tra vari paesi saranno proprio legati alla divisione al staccamento sui pezzi dell'Ucraina ovviamente Zelensky e il regime di Kiev sta cercando di speculare su questa situazione stanno già cercando di fare carini con i polacchi perché ovviamente per loro unica cosa importante è di continuare ad avere profitto da tutto quel disastro che loro hanno scatenato in Ucraina e continuare a sfruttare gli ucraini per la loro per i loro interessi in Russia uscirà il film che si chiama Testimone è un film che racconterà i fatti di Buccia in maniera diversa ovviamente da come è stato raccontato dai servizi occidentali dal mainstream occidentale i russi hanno raccolto dei fatti molto interessanti hanno fatto questo film e probabilmente in questo film i russi racconteranno il coinvolgimento dei servizi segreti britannici il coinvolgimento della Nato nella creazione di questa finta strage come pensano russi in Russia è stato arrestato Igor Gyrkin cosiddetto Strelkov noto perché dopo il colpo di stato in Ucraina nel 2014 si è ricato nel Donbass ha organizzato lì la difesa del Donbass e si tratta di una persona molto contraddittoria ultimamente ha litigato con tutti attaccava tutti in modo veramente selvaggio adesso le hanno in Russia le hanno accusato di aver incitato all'odio contro il governo e al colpo di stato un articolo 282 abbastanza grave e lui per ora viene trattenuto sotto l'arresto in carcere ci sarà un processo la FSB cioè i servizi di Putin hanno chiesto semplicemente che venga portato a casa hanno chiesto arresti domiciliari è chiaro che loro vorrebbero questa cosa diciamo risolvere abbastanza in fretta mentre il comitato d'indagine che è un organo diverso di giustizia in Russia loro vogliono carcere per lui molto probabile perché c'è un conflitto di interessi perché lui ha attaccato persone abbastanza potenti sia nell'esercito che nel ministero della difesa e adesso questi si stanno vindicando con lui comunque si tratta di un personaggio che ha un carattere abbastanza difficile e complicato ha già nel passato un po' sfiorato la decenza e a mio avviso questa situazione non è un complotto non è una situazione legata a qualche strana cosa sotterranea semplicemente una persona che fa parte del movimento dei nazionalisti russi una persona molto dura ha esagerato nelle espressioni ha esagerato nelle proprie come dire intenzioni mentre comunicava con i suoi seguaci sicuramente questa cosa è stata molto mal vista soprattutto delle persone che stanno nel ministero della difesa e per questo motivo lui è stato arrestato bisogna dire anche che lui si è espresso molto negativamente e tante volte contro l'agenzia privata e militare Wagner contro Prigozhin di persona contro fondatore di questa agenzia Dmitri Utkin e contro tutto il gruppo di comando di questa agenzia è vero che tutti provengono dallo stesso ambito perché anche Strelkov proviene dal diritorato principale dell'informazione probabilmente si tratta di un conflitto interno non hanno non sono riusciti a come dire a trovare i loro equilibri è chiaro che lui ha meno potere meno importanza e adesso lo stanno facendo fuori in questo modo questi in grande linee le prime conclusioni poi magari dedicherò un video a parte a questa tematica grazie amici per essere stati qui con me vi mando un forte abbraccio vi invito di iscrivervi al mio canale youtube di commentare i miei video di condividere i miei video con i vostri contatti vi ricordo che in tutte le librerie d'Italia è uscito mio nuovo libro che si chiama la guerra e l'odio dedicato alla guerra in Ucraina leggetelo fatemi sapere cosa ne pensate vi mando un forte abbraccio di nuovo e vi voglio bene